Salenzi Ma io l'ho visto e tanto ho visto la sua capacità ovviamente di politico di non rispondere mai alla stessa domanda che gli è stata posta almeno 3-4 volte appena trovava la domanda difficile diceva io ho portato Draghi cioè quella era un po' la sua cosa non so dire se politicamente sia finito però come uomo è sicuramente sfinito nel senso che lo trovo molto umanamente in difficoltà nel senso che non porsi delle domande etiche sui vari discorsi che non hanno nulla a che fare sul legale e non legale dico proprio come persona, come padre, come essere umano l'ho trovato molto sfinito l'ho trovato che da quando facevo il Boy Scout a oggi qualcosa è successo di scuro perché non è una persona che ha emanato un qualcosa di positivo io alla fine della puntata mi sono messo nel sale grosso, incensi comunque l'energia era molto scura Giulio? no lo so